Mari Cristallini, località balneari che promuovono un turismo sostenibile, eccellenze enogastronomiche, itinerari e luoghi d'arte di rilievo. Lega Ambiente Puglia ha presentato il Mare Più Bello 2021, l'annuale guida blu realizzata con il Touring Club Italiano. Alba Di Palo. 12 comprensori per località balneari caratterizzate da mare splendido e rispetto per l'ambiente che faranno da leva per la ripresa turistica dopo lo stop decretato dall'emergenza sanitaria. Luoghi incontaminati in cui le esigenze ambientali si incastrano alla perfezione all'offerta turistica. La Puglia, nella guida blu di Lega Ambiente e Touring Club Italiano, presentata a Bari, conquista con le sue bellezze il secondo posto in Italia preceduta per numero di comuni su cui sventolano le vele, simbolo di eccellenza, solo dalla Sardegna. Le cinque vele di Lega Ambiente, assegnate per qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi, sventolano su tre comuni dell'Alto Salento Adriatico, su quattro dell'Alto Salento Ionico e sulle isole Tremiti. Torna la guida blu con l'assegnazione delle cinque vele di Lega Ambiente, che premia i comuni e le amministrazioni che sanno coniugare sia lo sviluppo turistico ma anche la qualità dell'ambiente. Quest'anno sono 12 comprensori per la Puglia, tre di questi hanno le cinque vele. Si confermano Alto Salento Ionico e Alto Salento Adriatico, quindi abbiamo Otranto, Melendugno e Vernole e Gallipoli, Porto Cesario, Nardò e Racale. Ritornano le isole Tremiti. Perdono una vela, passando da cinque a quattro, i comuni del comprensorio della costa del Parco Agrario degli Ulivi Secolari, una declassificazione dovuta alle scelte fatte delle amministrazioni comunali. La scelta di togliere le cinque vele a Monopoli, Polignano, Ostuni e Carovigno è dovuta a delle scelte, soprattutto del comune di Polignano a Mare e di Ostuni, che hanno autorizzato il resort di lusso. Uno, la famosa storia di Costa Ripagnola, due, Ostuni ha autorizzato tre resort di lusso che vanno anche a toccare la piana degli ulivi secolari. Quindi, mentre premiamo quelle amministrazioni che sanno coniugare appunto lo sviluppo turistico, ma fatto da un punto di vista sia di qualità sia di tutela dell'ambiente. L'associazione ambientalista lancia per l'estate 2021 una nuova iniziativa. Si chiede a chi poi è presente quotidianamente sul territorio, soprattutto in estate, quindi attraverso i lidi, di segnalare le tartarughe o i nidi di tartaruga, poi anche per poter intervenire immediatamente e tutelarli contro l'inquinamento acustico e anche contro l'inquinamento luminoso. Quindi chiediamo ai lidi di darci questo supporto e questo aiuto per tutelare le tartarughe marine.